Ciao ragazzi, vi è un nuovo video. Oggi siamo qui, guardati, scusatevi perchè non ho messo il microfono e non c'è una capa. Allora, signori, oggi vi parlo come si usa UBS. Ok? Allora, UBS si usa molto bene. Allora, come faccio? Mi chiedo, come fai a mettere quella linea sopra chi è? E come fanno i dico, bella. Allora, ti lo faccio spiegare subito. Allora, andate su... Ah, io posso riacciare i video? Ok. Allora, subito, guarda, andate qua. Andate qua. E... faccia a faccia. Si chiamano qui. E programma. Allora, andate. Andate a spiegare uno che piace a voi. Io per questa questa però è molto bella. Che giocavo una volta. Una volta giocavo i giochi belli. Che poi non sapete che cazzo giocavo io. Allora. 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 Vabbè. Piamo questa. Ok. Poi. Andate a sabba. Sabba patica. Che sabba patica è cazzo ghetto. Questo. Ok. Quindi vedete. Webcam. Mi. Ciccque. Sabba. Fale cosi. Cosi non... non le vuoi... vabbè. Anche qua. scusate che ho sbagliato lo potremo aprire ok andate a cliccare qua voilà ti appare questa cosa e uno va dietro come fai a mettere quella cosa quella cosa per il dirumper allora signore non è tanto difficile questa cosa basta che fate così un po' solo un po' così pam ecco fatto poi andare a fare copia copia in samba copia samba fare così fare così poi andare su bs andare su immagine vai ok andare su 5 e signore eccolo qua ma che cosa stavo parlando c'è c'è un po' di dire che è difficile con bs è difficile è difficile io lavorare con bs non ero che faccio per i video subie quindi mi sono imparato subie a fare e poi vada pam e cacene vedi il pc poi questo i grandi cercare cosa ha ha c'ha c'ha plums c'ha i giochi se volete da i giochi da fare c'hai anche il fogo o il fogo webcam o un'altra cosa se volete giocare sul PS4 se volete PS4 cliccare al PS4 tipo così no PS4 cliccate poi qua sotto di da video vabbè che mi il cosa HDPL che io ce l'ho però non ci posso usare a te che peccato e vabbè è un signore ecco UBS come si usa che lo faccio vedere la cosa che si carica allora andate su Google e scrivete UBS ecco qua ecco qua andate su carica qua e poi lo scaricate ti lascio anche le intercensioni se volete scaricarlo che è molto semplice a caricarlo perché è gratis se volete a pagamento andare qui a pagamento se volete e basta se volete se volete andare a pagamento o ok Rockshare no Rockshare va bene e basta tutto qua se volete se volete ok signore il video ci vediamo al prossimo video ciao signore ciao signore ciao signore ciao signore ciao signore ciao signore